Molto illustri amici, benvenuti nel mondo dei molto nolevoli Castorcin, le nuove sorprese di Kinder Sorpresa Andiamo tutti alla grande festa cinese Divertenti i Castorcin di Kinder Sorpresa, che il divertimento è ancora più grande con la pagoda Buona visione con i grandi film di Panorama Grazie a tutti Grazie a tutti